Le sfide che ha davanti la Bosnia-Herzegovina, le sue aspirazioni europee e il dialogo interreligioso nel paese sono state al centro del colloquio tra Papa Francesco e il membro croato della presidenza collegiale della Bosnia-Herzegovina, Dragankovic, ricevuto nel Palazzo Apostolico. Nel corso dei coldeari colloqui, riferisce la sala stampa vaticana, è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni bilaterali, consolidate dall'accordo di base del 2006 e ci si è intrattenuti sulla situazione nel paese, sulle sfide che esso si trova ad affrontare e sulle sue aspirazioni europee, con uno scambio di vedute su temi di interesse quali la pace, la riconciliazione, il dialogo interreligioso e la presenza della comunità cattolica nel paese. Nel prosieguo della conversazione sono state passate in rassegna alcune situazioni dell'attualità politica internazionale, con speciale riferimento al contesto regionale. Grazie a tutti.